Il regista visionario Terry Gilliam ha presentato al festival del film di Roma Parnassus, l'ultimo film interpretato da Heath Ledger, morto prematuramente prima della fine delle riprese. L'attore scomparso è stato sostituito da tre dei suoi più cari amici e colleghi, Jude Law, Colin Farrell e Johnny Depp. Terry Gilliam e la coprotagonista del film, l'attrice e modella Lily Cole, hanno voluto ricordare l'attore e amico durante il festival. Cosa ricordatevi più di Heath Ledger? È difficile, mi sento molto… è molto difficile per mettere in un soundbite chi era. Era un personaggio straordinario e mi sento molto fortunato di aver metto il film. E ho spero che sia sempre influenciato a chi mi aspira, perché è stato così generoso e così loving e così cari e così creativo e così talento che… è stato un personaggio straordinario. Heath directed il film, sì. Heath era così determinato a diventare un director. E quindi quando erano lavorare… e questo si è stato fatto con il Brothers Grimm… …evo come around… «Why are you putting the camera there? Why are you doing this?» …and he constantly looked through… …and was trying to learn to be a director. …I think it would have been a great one… …and in a strange way… …at one point I was thinking of saying… …the film was co-directed… …by Terry Gilliam e Heath Ledger… …because… …when he died… …he created a situation… …that we had to cut certain scenes out… …we couldn't do this… …we had to do that… …we had to come up with other solutions… …and it was like… …he was forcing me… …to make a better film… …than I'd started to make. Nothing's permanent… …not even death. The Imaginarium of Dr. Pornossus.